I Verbali per Marco Domeniconi, io per il music consultant, vostro pifferaio Magico tra Filippo, nonché è un consulente musicale. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi, un mondo senza regole e controlli, senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile. Leggi le direttive e verrai diretta, dritta, dritta nella direzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non c'è nessuno. Ci sono un'occhiaio. Un'occhiaio. Un'occhiaio di questo planeto. Un'occhiaio. 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 che posso farlo? No, Miro. Sto dicendo che quando sei pronti, non devi farlo. Il film che ha vinto numerosi premi, tra cui quattro Oscar, ha avuto un forte impatto culturale e vi sono state numerose opere che vi hanno fatto riferimento. Nel 2012 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Il titolo del film deriva dal termine latino Matrix, matrice generatrice, che, a sua volta, ha dato origine al vocabolo inglese Matrix, ossia matrice di numeri. Un elemento di tipo tabellare derivante da strutture matematiche molto utilizzate in informatica per associare dati o sistemi di dati tra loro. In questo caso la matrice rappresenta una sorta di cyberspazio o realtà simulata, creata dalle macchine. The Matrix is a 1999 science fiction action film written and directed at Wachowski's family and produced by Joe Silver, starring Ken Reeves, Laurence Schworn, Carrie Almos, Hugo Weaving, Joe Pantoliano. A dystopian future in which humanity is not only trapped inside the simulated reality, the Matrix which intelligent machines have created to distract humans while using their bodies as an energy source. When computer programmer Thomas Anderson, under the hacker alias Neo, uncovers the truth, he is drawn into a rebellion against the machine, along with other people who have been freed from The Matrix. The Matrix was the first release in the USA and received larger positive reviews from critics to appraise innovative visual effects, action sequences, symmetry and determined value. The film is considered to be among the best science fiction films of all the time. This is the great spy break by Rob Hellerheads, la scena del film in cui lui nella banca viene attaccato. Mignone. I hope you enjoy this program about the Matrix science fiction movie. Spero vi sia piaciuto questa puntata dedicata a Matrix, il film di fantascienza veramente unico nel suo genere. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Marco Dominicone. La tim tima. La chipип車. La lentic begrudanza batteri. La ci parla in 어려 represented b ona Khwailhゲtu. La copia. ogni mattina un ospite di rilievo con noi oggi Marco Domeniconi Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes Marco Domenicon leads you every day in a trip towards new music landscapes Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes